Vangelo secondo Marco Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te. Egli ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la strada del Signore. Raddrizzate i Suoi sentieri. Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la gente della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava. L'apodimè viene uno che è più forte di me, e al quale io non sono degno di chinarmi per sciogliere i legazzi dei Suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito di scendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo. Subito dopo, lo Spirito si sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio. E diceva, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro, seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andarono un poco oltre. Vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Andarono a Cafarnao. E entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise a insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare. Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò. Taci, esci da quell'uomo. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda chi è mai questo? Una dottrina nuova, insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, nei dintorni della Galilea. E usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocela di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovato lo gli dissero Tutti ti cercano. E gli disse loro Andiamoci in altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle sinagoge e scacciando i demoni. Allora venne a lui un lebroso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva Se vuoi, puoi guarirmi. Ma sua compassione stese la mano, lo toccò e gli disse Lo voglio, guarisci. Subito la lebra scomparve ed egli guarì e ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse Guarda di non dire niente a nessuno, ma va presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quegli, allontanandosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte. Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta ed egli annunziava loro la parola. Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portaglielo dinanzi a causa della folla scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e fatta un'apertura calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù vista la loro fede disse al paralitico Figliuolo ti sono rimessi i tuoi peccati. Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro perché costui parla così bestemmia chi può rimettere i peccati se non Dio solo. Ma Gesù avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé disse loro Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico ti sono rimessi i peccati o dire alzati prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati? Ti ordino disse al paralitico alzati prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quegli si alzò prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lo davano Dio dicendo non abbiamo mai visto nulla di simile. Uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli le ammaestrava. Nel passare vide Levi il figlio di Alfeo seduto al banco delle imposte e gli disse seguimi. egli alzatosi lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti infatti quelli che lo seguivano. Allora gli iscrivi della setta dei farisei vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani dicevano ai suoi discepoli come mai egli mangia e beve in compagnia dei pubblicani e dei peccatori. Avendo udito questo Gesù disse loro non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori. Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano. Gesù disse loro possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma verranno i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore e nessuno versa vino nuovo in altri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri ma vino nuovo in otri nuovi. Il giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli camminando cominciarono a strappare le spighe i farisei gli dissero vedi perché essi fanno di sabato quel che non è permesso ma egli rispose loro non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame lui e i suoi compagni come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare e ne diede anche ai suoi compagni e diceva loro il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. Entrò di nuovo nella sinagoga c'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo e gli disse all'uomo che aveva la mano inaridita mettiti nel mezzo poi domanda loro è lecito un giorno di sabato fare il bene o il male salvare una vita o toglierla ma essi tacevano e guardandoli tutti intorno con indignazione rattristato per la durezza dei loro cuori disse a quel uomo stendi la mano la stese e la sua mano fu risanata e i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla Galilea dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e dalla Transordania e dalle parti di Tiro e Sidone una gran folla sentendo ciò che faceva si recò da lui allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero infatti ne aveva guariti molti così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo gli spiriti immondi quando lo vedevano gli si gettavano ai piedi gridando tu sei il figlio di Dio ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero salì poi sul monte chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui ne costituì dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni costituì dunque i dodici Simone al quale impose il nome di Pietro poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di Giacomo ai quali diede il nome di Buonerges cioè figli del tuono e Andrea Filippo Bartolomeo Matteo Tommaso Giacomo di Alfeo Taddeo Simone il Cananeo e Giuda Iscariota quello che poi lo tradì entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla al punto che non potevano neppure prendere cibo allora i suoi sentito questo uscirono per andare a prenderlo poiché dicevano è fuori di sé ma gli iscrivi che erano discesi da Gerusalemme dicevano costui è posseduto da Belzebù e scaccia i demoni per mezzo del principe dei demoni ma egli chiamatoli diceva loro in parabole come può Satana scacciare Satana se un regno è diviso in sé stesso quel regno non può reggersi se una casa è divisa in sé stessa quella casa non può reggersi alla stessa maniera se Satana si ribella contro sé stesso ed è diviso non può resistere ma sta per finire nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte allora ne saccheggerà la casa in verità vi dico tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno ma chi avrà bestemmiato contro lo spirito santo non avrà perdono in eterno sarà reo di una colpa eterna poiché dicevano è posseduto da uno spirito immondo giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare tutto attorno era seduta la folla e gli dissero ecco tua madre i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano ma egli rispose loro chi è mia madre e chi sono i miei fratelli girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno disse ecco mia madre e i miei fratelli chi compie la volontà di dio costui è mio fratello sorella e madre di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme tanto che egli salì su una barca e là restò seduto stando in mare mentre la folla era a terra lungo la riva insegnava loro molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento ascoltate ecco uscì il seminatore a seminare mentre seminava una parte cadde lungo la strada e vennero gli uccelli e la divorarono un'altra cadde fra i sassi dove non c'era molta terra e subito spuntò perché non c'era un terreno profondo ma quando si levò il sole restò bruciata e non avendo radice si seccò un'altra cadde tra le spine le spine crebbero la soffocarono e non diede frutto ed un'altra cadde sulla terra buona diede frutto che venne su e crebbe e reso ora il 30 ora il 60 ora il 100 per uno e diceva chi ha orecchi per intendere intenda quando poi fu solo i suoi insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole ed egli disse loro a voi è stato confidato il mistero del regno di dio a quelli di fuori invece tutto viene esposto in parabole perché guardino ma non vedano ascoltino ma non intendano perché non si convertano e venga loro perdonato continuò dicendo loro se non comprendete questa parabola come potete capire tutte le altre parabole il seminatore semina la parola quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola ma quando l'ascoltano subito viene satana e porta via la parola seminata in loro similmente quelli che ricevono il seme sulle pietre sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia ma non hanno radice in se stessi e sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito si abbattono altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine sono coloro che hanno ascoltato la parola ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte le altre bramosie soffocano la parola e questa rimane senza frutto quelli poi che ricevono il seme su un terreno buono sono coloro che ascoltano la parola l'accolgono e portano frutto nella misura chi del 30 chi del 60 chi del 100 per 1 diceva loro si porta forse la lampada per metterla sotto il moggio sotto il tetto o piuttosto per metterla sul lucerniere non c'è nulla infatti di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce se uno ha orecchi per intendere intenda diceva loro fate attenzione a quello che udite con la stessa misura con la quale misurate sarete misurati anche voi anzi vi sarà dato di più poiché a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha diceva il regno di dio è come un uomo che getta il seme nella terra dorma ovegli di notte o di giorno il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa poiché la terra produce spontaneamente prima lo stelo poi la spiga poi il chicco pieno nella spiga quando il frutto è pronto subito si mette mano alla false perché è venuta la mietitura diceva a che cosa possiamo paragonare il regno di dio o con quale parabola possiamo descriverlo esso è come un granellino di senapa che quando viene seminato per terra è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti gli ortaggi e farami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra con molte parabole di questo genere annunziava loro la parola secondo quello che potevano intendere senza parabole non parlava loro ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa in quel medesimo giorno verso sera disse loro passiamo all'altra riva e lasciata la folla lo presero con sé così com'era nella barca c'erano anche altre barche con lui nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca tanto che ormai era piena egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva allora lo svegliarono e gli dissero maestro non ti importa che moriamo destatosi sgridò il vento e disse al mare taci calmati il vento cessò e vi fu grande bonaccia poi disse loro perché siete paurosi non avete ancora fede e furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono intanto giunsero all'altra riva del mare nella regione dei geraseni come scese dalla barca gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene perché più volte era stato legato con ceppi e catene ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi e nessuno più riusciva a domarlo continuamente notte e giorno tra i sepolcri e sui monti gridava e si percuoteva con pietre visto Gesù da lontano accorse gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse che hai tu in comune con me Gesù figlio del Dio altissimo ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi gli diceva infatti esci spirito immondo da quest'uomo e gli domandò come ti chiami mi chiamo legione gli rispose perché siamo in molti e prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione ora c'era là sul monte un numeroso blanco di porci al pascolo e gli spiriti lo scongiurarono mandaci da quei porci perché entriamo in essi e gli permise e gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il blanco si precipitò dal burrone nel mare erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare i mandriani allora fuggirono portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto giunti che furono da Gesù videro l'indemoniato seduto vestito e sano di mente lui che era stato posseduto dalla legione lui che era stato posseduto dalla legione ed ebbero paura quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio mentre saliva nella barca colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui non glielo permise ma gli disse va nella tua casa dai tuoi annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto e tutti ne erano meravigliati essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo il quale vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza la mia figlioletta è agli estremi viene a imporle le mani perché sia guarita e viva Gesù andò da lui molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno or una donna che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio anzi peggiorando udito parlare di Gesù venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita dal male ma subito Gesù avvertita la potenza che era uscita da lui si voltò alla folla dicendo chi mi ha toccato il mantello i discepoli gli dissero tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici chi mi ha toccato e gli intanto guardava intorno per vedere ecco lei che aveva fatto questo e la donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità Gesù rispose figlia la tua fede ti ha salvata va in pace e si guarita dal tuo male mentre ancora parlava dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro ma Gesù udito quanto dicevano disse al capo della sinagoga non temere continua solo ad aver fede e non permise a nessuno di seguirlo purché a Pietro Giacomo e Giovanni fratello di Giacomo giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava entrato disse loro perché fate tanto strepito e piangete la bambina non è morta ma dorme ed essi lo deridevano ma egli cacciati tutti fuori prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina presa la mano della bambina le disse talitacum che significa fanciulla io ti dico alzati subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare aveva dodici anni essi furono presi da grande stupore Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare partito quindi di là andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono venuto il sabato incominciò a insegnare nella sinagoga e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano dove gli vengono queste cose e che sapienza è mai questa che gli è stata data e questi prodigi compiuti dalle sue mani non è costui il carpentiere il figlio di Maria il fratello di Giacomo di Ioses di Giuda e di Simone e le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano di lui ma Gesù disse loro un profeta non è disprezzato che nella sua patria tra i suoi parenti e in casa sua e non vi poté operare nessun prodigio ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì e si meravigliava della loro incredulità allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio né pane né bisaccia né denaro nella borsa ma calzati solo i sandali non indossassero due tuniche e diceva loro entrate in una casa rimanetevi fino a che non ve ne andiate da quel luogo se in qualche luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno andandovene scuotete la polvere di sotto i vostri piedi a testimonianza per loro e partiti predicavano che la gente si convertisse scacciavano molti demoni ungevano di olio molti infermi e li guarivano il re erode sentì parlare di gesù poiché intanto il suo nome era diventato famoso si diceva giovanni il battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui altri invece dicevano è elia altri dicevano ancora è un profeta come uno dei profeti ma erode al sentirne parlare diceva quel giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato erode infatti aveva fatto arrestare giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di erodiade moglie di suo fratello filippo che egli aveva sposata giovanni diceva a erode non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello per questo erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere ma non poteva perché erode temeva giovanni sapendolo giusto e santo e vigilava su di lui e anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso tuttavia lo ascoltava volentieri venne però il giorno propizio quando erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte gli ufficiali e i notabili della galilea entrata la figlia della stessa erodiade danzò e piacque erode ai commensali allora il re disse alla ragazza chiedimi quello che vuoi e io te lo darò e le fece questo giuramento qualsiasi cosa mi chiederai te la darò fosse anche la metà del mio regno la ragazza uscì e disse alla madre che cosa devo chiedere quella rispose la testa di giovanni battista ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di giovanni battista il re divenne triste tuttavia a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa la guardia andò lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio la diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre i discepoli di giovanni saputa la cosa vennero ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro gli apostoli si riunirono intorno a gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato ed egli disse loro venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po' era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare allora partirono sulla barca verso un luogo solitario in disparte molti però li videro partire e capirono e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero sbercando vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose essendosi ormai fatto tardi gli si avvicinarono i discepoli dicendo questo luogo è solitario ed è ormai tardi congedali perciò in modo che andando per le campagne e i villaggi vicini possono comprarsi da mangiare ma egli rispose voi stessi date loro da mangiare gli dissero dobbiamo andar noi a comprare duecento denari di pane e dar loro da mangiare ma egli replicò loro quanti pani avete andate a vedere e accertatisi riferirono cinque pani e due pesci allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde e sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta presi i cinque pani e i due pesci levò gli occhi al cielo pronunziò la benedizione spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero e divise i due pesci fra tutti tutti mangiarono e si sfamarono e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva verso Bezzaida mentre gli avrebbe licenziato la folla appena li ebbe congedati salì sul monte a pregare venuta la sera la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra vedendoli però tutti affaticati nel remare poiché avevano il vento contrario già verso l'ultima parte della mezzanotte andò verso di loro camminando sul mare e volevo oltrepassarli essi vedendolo camminare sul mare pensarono è un fantasma e cominciarono a gridare perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati ma egli subito rivolse loro la parola e disse coraggio sono io non temete quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò ed erano enormemente stupiti in se stessi perché non avevano capito il fatto dei pani essendo il loro cuore indurito compiuta la traversata approdarono e presero terra a Genesaret appena scesi dalla barca la gente lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sui lettucci quelli che stavano male dovunque udivano che si trovasse ed ovunque giungeva in villaggio città o campagne ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello e quanti lo toccavano guarivano allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli iscrivi venuti da Gerusalemme avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde cioè non lavate i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservando molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri stoviglie e oggetti di rame quei farisei e scrivilo interrogarono perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani immonde ed egli rispose loro bene approfetato Isaia di voi ipocriti come sta scritto questo popolo mi onora con le labbra ma il cuore è lontano da me in vano essi mi rendono culto in vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini trascurando il comandamento di Dio voi osservate la tradizione degli uomini e aggiungeva siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione Mosè infatti disse onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre e la madre si è messo a morte o invece dicendo se uno dichiara al padre o alla madre è corban cioè offerta sacra quello che ti sarebbe dovuto da me non gli permette più di fare nulla per il padre e la madre annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili ne fate molte chiamata di nuovo la folla diceva loro ascoltatemi tutti e intendete bene non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo quando entrò in una casa lontano dalla folla i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola e disse loro siate anche voi così privi di intelletto non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna dichiarava così mondi tutti gli alimenti quindi soggiunse ciò che esce dall'uomo questo sì contamina l'uomo dal di dentro infatti cioè dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive fornicazioni furti omicidi adulteri cupidige malvagità inganno impudicizia invidia calunnia superbia stoltezza tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo partito di là andò nella regione di tiro e di sidone ed entrato in una casa voleva che nessuno lo sapesse ma non poté restare nascosto subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo appena lo seppe andò e si gettò ai suoi piedi ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca di origine sirofenicia ed egli le disse lascia prima che si sfamino i figli non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini ma essa replicò sì signore ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli allora le disse per questa tua parola va il demonio è uscito da tua figlia tornata a casa trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato di ritorno dalla regione di Tiro passò per Sidone dirigendosi verso il mare di Galileo in pieno territorio della Decapoli e gli condussero un sordo muto pregandolo di imporgli la mano e portandolo in disparte lontano dalla folla gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e disse e fatà cioè apriti e subito gli si aprirono gli occhi si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente comandò loro di non dirlo a nessuno ma più egli lo raccomandava più essi ne parlavano e pieni di stupore dicevano ha fatto bene ogni cosa fa udire i sordi e fa parlare i muti in quei giorni essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare chiamò a sei discepoli e disse loro sento compassione di questa folla perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare se li rimando digiuni alle proprie case verranno meno per via e alcuni di loro vengono di lontano gli rispose gli discepoli e come si potrebbe sfamarli di pane qui in un deserto e domandò loro quanti pani avete gli dissero sette Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra presi allora quei sette pani rese grazie li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero ed essi li distribuirono alla folla avevano anche pochi pesciolini dopo aver pronunciato la benedizione su di essi disse di distribuire anche quelli così essi mangiarono e si saziarono e portarono via sette sporte di pezzi avanzati erano circa quattromila e li congedò salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di dalmanuta allora vennero i farisei e cominciarono a discutere con lui chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova ma egli traendo un profondo sospiro disse perché questa generazione chiede un segno in verità vi dico non sarà dato alcun segno a questa generazione e lasciateli riseri sulla barca e si avviò all'altra sponda ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo allora egli li ammoniva dicendo fate attenzione guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di erode e quelli dicevano fra loro non abbiamo pane ma Gesù accortosi di questo disse loro perché discutete che non avete pane non intendete e non capite ancora avete il cuore indurito avete gli occhi e non vedete avete orecchi e non udite e non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila quante ceste colme di pezzi avete portato via vi chiesero dodici e quando ho spezzato i sette pani per i quattromila quante sporte piene di pezzi avete portato via gli dissero sette e disse loro non capite ancora giunsero a Bezzaida dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo allora preso il cieco per mano lo condussero fuori del villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi gli impose le mani e gli chiese vedi qualcosa quelli alzando gli occhi disse vedo gli uomini poiché vedo come degli alberi che camminano allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa e lo rimandò a casa dicendo non entrare nemmeno nel villaggio poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo chi dice la gente che io sia ed essi gli risposero Giovanni il Battista altri poi Elia e altri uno dei profeti ma egli replicò e voi chi dite che io sia Pietro gli rispose tu sei il Cristo e impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno e incominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani dai sommi sacerdoti e dagli iscrivi poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare Gesù faceva questo discorso apertamente allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo ma egli voltatosi e guardando i discepoli rimproverò Pietro e gli disse lungi da me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini convocata la folla insieme ai suoi discepoli disse loro se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà che dove infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima e che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultere peccatrice anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del padre suo con gli angeli e diceva loro in verità vi dico vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto in un luogo appartato da soli si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti bianchissime nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche e apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù prendendo allora la parola Pietro disse a Gesù maestro è bello per noi stare qui facciamo tre tende una per te una per Mosè e una per Elia non sapeva infatti cosa dire perché erano stati presi dallo spavento poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube questi è il figlio mio prediletto ascoltatelo e subito guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo con loro mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti ed essi tennero per sé la cosa domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti e lo interrogarono perché gli scrivi dicono che prima deve venire Elia e gli rispose loro sì prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto ed essere disprezzato orbene io vi dico che Elia è già venuto ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto come sta scritto di lui e giunti presso i discepoli li videro circondati da molta folla e da scribi che discutevano con loro tutta la folla al vederlo fu presa da meraviglia e corse a salutarlo ed egli li interrogò di che cosa discutete con loro gli rispose uno della folla maestro ho portato da te mio figlio posseduto da uno spirito muto quando lo afferra lo getta al suolo ed egli schiuma di grigna i denti e si irrigidisce ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo ma non ci sono riusciti egli allora in risposta disse loro oh generazione incredula fino a quando starò con voi fino a quando dovrò sopportarvi portatelo da me e glielo portarono alla vista di gesù lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava spumando gesù interrogò il padre da quanto tempo gli accade questo ed egli rispose dall'infanzia anzi spesso lo ha buttato perfino nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo ma se tu puoi qualcosa abbi pietà di noi e aiutaci gesù gli disse se tu puoi tutto è possibile per chi crede il padre del fanciullo rispose ad alta voce credo aiutami nella mia incredulità allora gesù vedendo a correre la folla minacciò lo spirito immondo dicendo spirito muto e sordo io te l'ordino esci da lui e non rientrare più e gridando e scuotendolo fortemente se ne uscì e il fanciullo diventò come morto sicché molti dicevano è morto ma gesù presolo per mano lo sollevò ed egli si alzò in piedi entrò poi in una casa e i discepoli gli chiesero in privato perché noi non abbiamo potuto scacciarlo ed egli disse loro questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera partiti di là attraversarono la galilea ma egli non voleva che alcuno lo sapesse istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno ma una volta ucciso dopo tre giorni risusciterà ed essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni giunsero intanto a Cafarnao e quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via ed essi tacevano per la via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande allora sedutosi chiamò i dodici e disse loro se uno vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti e preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome accoglie me chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato Giovanni gli disse maestro abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non era dei nostri ma Gesù disse non glielo proibite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito dopo possa parlare male di me chi non è contro di noi è per noi chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa chi scandalizza uno di questi piccoli che credono è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga gettato nel mare se la tua mano ti scandalizza tagliala è meglio per te entrare nella vita monco che con due mani andare nella genna nel fuoco inestinguibile se il tuo piede ti scandalizza taglialo è meglio per te entrare nella vita zoppo che essere gettato con due piedi nella genna se il tuo occhio ti scandalizza cavalo è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella genna dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue perché ciascuno sarà salato con il fuoco buona cosa è sale ma se il sale diventa senza sapore con che cosa lo salerete abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri partito di là si recò nel territorio della Giudea e oltre il Giordano la folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava come era solito fare e avvicinatisi dai farisei per metterlo alla prova gli domandarono è lecito un martire ripudiare la propria moglie ma egli rispose loro che cosa vi ha ordinato Mosè dissero Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla Gesù disse loro per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma ma all'inizio della creazione Dio li crea un maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola sicché non sono più due ma una sola carne l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto rientrati a casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento ed egli disse chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro commette adulterio gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse ma i discepoli gli sgridavano Gesù al vedere questo si indignò e disse loro lasciate che i bambini vengono a me e non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio in verità vi dico chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva mentre usciva per mettersi in viaggio un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò maestro buono che cosa devo fare per avere la vita eterna Gesù gli disse perché mi chiami buono nessuno è buono se non Dio solo tu conosci i comandamenti non uccidere non commettere adulterio non rubare non dire falsa testimonianza non frodare onora il padre e la madre egli allora gli disse maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza allora Gesù fissatolo lo amò e gli disse una cosa sola ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo poi vieni e seguimi ma egli rattristatosi per quelle parole se ne andò afflitto poiché aveva molti beni Gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio i discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole ma Gesù riprese figliuoli com'è difficile entrare nel regno di Dio è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio essi ancora più sbigottiti dicevano fra loro e chi mai si può salvare ma Gesù guardandoli disse impossibile presso gli uomini ma non presso Dio perché tutto è possibile presso Dio Pietro allora gli disse ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito Gesù gli rispose in verità vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già al presente cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna e molti dei primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti coloro che venivano dietro erano pieni di timore prendendo di nuovo in disparte i dodici cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto ecco noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli iscrivi lo condanneranno a morte lo consegneranno ai pagani lo scherniranno gli sputeranno addosso lo flagelleranno e lo uccideranno ma dopo tre giorni risusciterà e gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni i figli di Zebedeo dicendogli maestro noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo e gli disse loro cosa volete che io faccia per voi gli risposero concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Gesù disse loro voi non sapete ciò che domandate potete bere il calice che io bevo o ricevere il battesimo con cui io sono battezzato gli risposero lo possiamo e Gesù disse il calice che io bevo anche voi lo berrete e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo è per coloro per i quali è stato preparato all'udire questo gli altri dieci si stegnarono con Giacomo e Giovanni allora Gesù chiamatili a sé disse loro voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano e i loro grandi esercitano su di esse il potere fra voi però non è così ma chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti il figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti e giunsero a Gerico e mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli a molta folla il figlio di Timeo Bartimeo cieco sedeva lungo la strada a mendicare costui al sentire che c'era Gesù Nazareno cominciò a gridare e a dire figlio di Davide Gesù abbi pietà di me molti lo sgridavano per farlo tacere ma egli gridava più forte figlio di Davide abbi pietà di me allora Gesù si fermò e disse chiamatelo e chiamarono il cieco dicendogli coraggio alzati ti chiama egli gettato via il mantello balzò in piedi e venne da Gesù allora Gesù gli disse che vuoi che io ti faccia e il cieco a lui rabbuni che io riabbia la vista e Gesù gli disse va la tua fede ti ha salvato e subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada quando si avvicinarono a Gerusalemme verso Beftage e Betania presso il monte degli Ulivi mandò due dei suoi discepoli e disse loro andate nel villaggio che vi sta di fronte e subito entrando in esso troverete un asinello legato sul quale nessuno è mai salito scioglietelo e conducetelo e se qualcuno vi dirà perché fate questo rispondete il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà qui subito andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta fuori sulla strada e lo sciolsero e alcuni dei presenti però dissero che cosa fate sciogliendo questo asinello ed essi risposero come aveva detto loro il Signore e li lasciarono fare essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi montò sopra e molti stendevano i loro mantelli nella strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi quelli che poi andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore benedetto il regno che viene del nostro padre Davide osanna nel più alto dei cieli ed entrò a Gerusalemme nel tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno essendo ormai l'ora tarda uscì con i dodici diretto a Betania la mattina seguente mentre uscivano da Betania ebbe fame e avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie si avvicinò per vedere se mai vi trovasse qualche cosa ma giuntovi sotto non trovò altro che foglie non era infatti quella la stagione dei fichi e gli disse nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti e i discepoli lo dirono andarono intanto a Gerusalemme ed entrato nel tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e compravano nel tempio rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si portassero cose attraverso il tempio ed insegnava loro dicendo non sta forse scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri lo dirono i sommi sacerdoti e gli iscrivi e cercavano il modo di farlo morire avevano infatti paura di lui perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento quando venne la sera uscirono dalla città la mattina seguente passando videro il fico seccato fin dalle radici allora Pietro ricordandosi gli disse maestro guarda il fico che hai maledetto si è seccato Gesù allora disse loro abbiate fede in dio in verità vi dico chi dicesse a questo monte levati e gettati nel mare senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà ciò vi sarà accordato per questo vi dico tutto quello che domandate nella preghiera abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato quando vi mettete a pregare se avete qualcosa contro qualcuno perdonate perché anche il padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati andarono di nuovo a Gerusalemme e mentre egli si aggirava per il tempio gli si avvicinarono i sommi sacerdoti gli iscrivi e gli anziani e gli dissero con quale autorità fai queste cose o chi ti ha dato l'autorità di farlo ma Gesù disse loro vi farò anch'io una domanda e se mi risponderete vi dirò con quale potere lo faccio il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini rispondetemi ed essi discuterono tra sé dicendo se rispondiamo dal cielo dirà perché allora non gli avete creduto diciamo dunque dagli uomini però temevano la folla perché tutti consideravano Giovanni come un vero profeta allora diedero a Gesù questa risposta non sappiamo e Gesù disse loro neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose Gesù si mise a parlare loro in parabole un uomo piantò una vigna vi pose attorno una siepe scavò un torchio costruì una torre poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano a suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli il frutto della vigna ma essi afferrato lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote inviò loro di nuovo un altro servo ma anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero e di molti altri che gli ancora mandò alcuni li bastonarono altri li uccisero aveva ancora uno il figlio prediletto lo inviò loro per ultimo dicendo avranno rispetto per mio figlio ma quei vignaioli dissero tra di loro questi è l'erede su uccidiamolo e l'eredità sarà nostra e afferratolo lo uccisero lo gettarono fuori della vigna che cosa farà dunque il padrone della vigna verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri non avete forse letto questa scrittura la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo dal signore è stato fatto questo ed è immirabile agli occhi nostri allora cercarono di catturarlo ma ebbero paura della folla avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro e lasciatolo se ne andarono gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso e venuti quegli gli dissero maestro sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno infatti non guardi in faccia gli uomini ma secondo verità insegni la via di Dio è lecito o no dare il tributo a Cesare lo dobbiamo dare o no ma egli conoscendo la loro ipocrisia disse perché mi tentate portatemi un denaro perché io lo veda ed essi glielo portarono allora disse loro di chi è questa immagine e l'iscrizione gli risposero di Cesare Gesù disse loro rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio e rimasero ammirati di lui vennero a lui dei sadducei i quali dicono che non c'è resurrezione e lo interrogarono dicendo maestro Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello c'erano sette fratelli il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza allora la prese il secondo ma morì senza lasciare discendenza e il terzo è ugualmente e nessuna dei sette lasciò discendenza infine dopo tutti morì anche la donna nella resurrezione quando risorgeranno a chi di loro apparterrà la donna poiché in sette l'hanno avuta come moglie risposi loro Gesù non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture né la potenza di Dio quando risusciteranno dai morti infatti non prenderanno moglie né marito ma saranno come angeli nei cieli a riguardo poi dei morti che devono risorgere non avete letto nel libro di Mosè a proposito del roveto come Dio gli parlò dicendo io sono il Dio di Abramo il Dio di Isacco e di Giacobbe non è un Dio dei morti ma dei viventi voi siete in grave errore allora si accostò uno degli iscrivi che li aveva uditi discutere e visto come aveva loro ben risposto gli domandò qual è il primo di tutti i comandamenti Gesù rispose il primo è ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua mente con tutta la tua forza e il secondo è questo amerai il prossimo tuo come te stesso non c'è altro comandamento più importante di questi allora lo scriva gli disse hai detto bene maestro e secondo verità che egli è unico e non ve altri all'infuori di lui amarlo con tutto il cuore con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso va al più di tutti gli olocausti e i sacrifici Gesù vedendo che aveva risposto saggiamente gli disse non sei lontano dal regno di Dio e nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo Gesù continuava a parlare insegnando nel Tempio come mai dicono gli scrivi che il Messia è figlio di Davide Davide stesso infatti ha detto mosso dallo Spirito Santo disse il Signore al mio Signore siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi Davide stesso lo chiama Signore come dunque può essere suo figlio e la numerosa folla lo ascoltava volentieri diceva loro mentre insegnava guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare in lunghe vesti ricevere saluti nelle piazze avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti divorano le case delle vedove e ostentano di far lunghe preghiere e si riceveranno una condanna più grave e sedutoci di fronte al tesoro osservava come la folla gettava monete nel tesoro e tanti ricchi ne gettavano molte ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli cioè un quattrino allora chiamati a sé i discepoli disse loro in verità vi dico questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri poiché tutti hanno dato del loro superfluo essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva tutto quanto aveva per vivere mentre usciva dal tempio un discepolo gli disse maestro guarda che pietre e che costruzioni Gesù gli rispose vedi queste grandi costruzioni non rimarrà qui pietra su pietra che non sia distrutta mentre sta seduto sul monte degli ulivi di fronte al tempio pietro giacomo giovanni andrea lo interrogano in disparte dici quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose staranno per compiersi Gesù si mise a dire loro guardate che nessuno vi inganni molti verranno in mio nome dicendo sono io e inganneranno molti e quando sentirete parlare di guerra non allarmatevi bisogna infatti che ciò avvenga ma non sarà ancora la fine si leverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno vi saranno terremoti sulla terra e vi saranno carestie questo sarà il principio dei dolori ma voi badate a voi stessi vi consegneranno ai sinedri sarete percossi nelle sinagoge comparirete davanti a governatori e re a causa mia per rendere testimonianza davanti a loro ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le genti e quando vi condurranno via per consegnarvi non preoccupatevi di ciò che dovrete dire ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato poiché non siete voi a parlare ma lo spirito santo il fratello consegnerà a morte il fratello il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li metteranno a morte voi sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato quando vedrete l'abominio della desolazione stare là dove non conviene chi legge capisca allora quelli che si trovano nella giudea fuggano ai monti chi si trova sulla terrazza non scenda per entrare a prendere qualcosa nella sua casa chi è nel campo non torni indietro a prendersi il mantello guai alle donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni pregate che ciò non accada d'inverno perché quei giorni saranno una tribolazione quale non è mai stata dall'inizio della creazione fatta da dio fino al presente ne mai vi sarà se il signore non abbreviasse quei giorni nessun uomo si salverebbe ma a motivo degli eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni allora dunque se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui eccolo là non ci credete perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare se fosse possibile anche gli eletti voi però state attenti io vi ho predetto tutto manifestazione gloriosa del figlio dell'uomo in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore e gli astri si metteranno a cadere dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria ed egli manderà gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo dal fico imparate questa parabola quando già il suo ramo si fa tenero e mette le foglie voi sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino alle porte in verità vi dico non passerà questa generazione prima che tutte queste cose siano avvenute il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno quanto poi a quel giorno a quell'ora nessuno li conosce neanche gli angeli nel cielo e neppure il figlio ma solo il padre state attenti vegliate perché non sapete quando sarà il momento preciso è come uno che è partito per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vigilare vigilate dunque poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati quello che dico a voi lo dico a tutti vegliate mancavano intanto due giorni alla pasqua e agli azimi e i sommi sacerdoti e gli iscrivi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno per ucciderlo dicevano infatti non durante la festa perché non succeda un tumulto di popolo Gesù si trovava in Betania nella casa di Simone il lebroso mentre stava a mensa giunse una donna con un vasetto di alabastro pieno di olio profumato di nardo genuino di gran valore ruppe il vasetto di alabastro e versò l'unguento sul suo capo ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro perché tutto questo spreco di olio profumato si poteva benissimo vendere quest'olio a più di 300 denari e darli ai poveri ed erano infuriati contro di lei allora Gesù disse lasciatela stare perché le date fastidio e le ha compiuto verso di me un'opera buona i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete me invece non mi avete sempre essa ha fatto ciò che era in suo potere unguendo in anticipo il mio corpo per la sepoltura in verità vi dico che dovunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo si racconterà pure in suo ricordo ciò che la ha fatto allora Giudea Iscariota uno dei dodici si recò dai sommi sacerdoti per consegnare loro Gesù quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli denaro ed egli cercava l'occasione opportuna per consegnarlo il primo giorno degli azimi quando si immolava la Pasqua i suoi discepoli gli dissero dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua seguitelo e là dove entrerà dite al padrone di casa il maestro dice dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta là preparate per noi i discepoli andarono ed entrati in città trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua venuta la sera egli giunse con i dodici ora mentre erano a mensa e mangiavano Gesù disse in verità vi dico uno di voi colui che mangia con me mi tradirà allora cominciarono a rattristarsi a dirgli uno dopo l'altro sono forse io ed egli disse loro uno dei dodici colui che intinge con me nel piatto il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito bene per quell'uomo se non fosse mai nato mentre mangiavano prese il pane e pronunziata la benedizione lo spezzò e lo diede loro dicendo prendete questo è il mio corpo poi prese il calice e rese grazie lo diede loro e ne bevvero tutti e disse questo è il mio sangue il sangue dell'alleanza versato per molti in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio e dopo aver cantato l'inno uscirono verso il monte degli ulivi Gesù disse loro tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto percuoterò il bastone e le pecore saranno disperse ma dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea allora Pietro gli disse anche se tutti saranno scandalizzati io non lo sarò Gesù gli disse in verità ti dico proprio tu oggi in questa stessa notte prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai tre volte ma egli con grande insistenza diceva anche se dovessi morire con te non ti rinnegherò lo stesso dicevano anche tutti gli altri giunsero intanto a un podere chiamato Gezzemani ed egli disse ai suoi discepoli sedetevi qui mentre io prego prese con sé Pietro Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia Gesù disse loro la mia anima è triste fino alla morte restate qui e vegliate poi andato un po' innanzi si gettò a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora e diceva abbà padre tutto è possibile a te allontana da me questo calice però non ciò che io voglio ma ciò che vuoi tu tornato indietro li trovò addormentati e disse a Pietro Simone dormi non sei riuscito a vegliare un'ora sola vegliate e pregate per non entrare in tentazione lo spirito è pronto ma la carne è debole allontanato si di nuovo pregava dicendo le medesime parole ritornato li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli venne la terza volta e disse loro dormite ormai e riposatevi basta è venuta l'ora ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori alzatevi andiamo ecco colui che mi tradisce è vicino e subito mentre ancora parlava arrivò Giuda uno dei dodici e con lui una folla con spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti dagli iscrivi e dagli anziani chi lo tradiva aveva dato loro questo segno quello che bacerò è lui arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta allora gli si accostò dicendo rabbì e lo baciò essi gli misero addosso le mani e lo arrestarono uno dei presenti estratta la spada colpì il servo del sommo sacerdote e gli recise l'orecchio allora Gesù disse loro come contro un brigante con spade e bastoni siete venuti a prendermi ogni giorno ero in mezzo a voi a insegnare nel tempio e non mi avete arrestato si adempiano dunque le scritture tutti allora abbandonandolo fuggirono un giovanetto però lo seguiva rivestito soltanto di un lenzuolo e lo fermarono ma egli lasciato il lenzuolo fuggì via nudo allora condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti gli anziani e gli scrivi Pietro lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote e se ne stava seduto tra i servi scaldandosi al fuoco intanto i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte ma non la trovavano molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui dicendo noi lo abbiamo udito mentre diceva io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni le edificherò un altro non fatto da mani d'uomo ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde allora il sommo sacerdote levatosi in mezzo all'assemblea interrogò Gesù dicendo non rispondi nulla che cosa testimoniano costoro contro di te ma egli taceva e non rispondeva nulla di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli sei tu il cristo il figlio di dio benedetto Gesù rispose io lo sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo allora il sommo sacerdote stracciandosi le vesti disse che bisogno abbiamo ancora di testimoni avete udito la bestemmia che ve ne pare tutti sentenziarono che era reo di morte allora alcuni cominciarono a sputarli addosso a coprirgli il volto a schiaffeggiarlo e a dirgli indovina i servi intanto lo percotevano mentre pietro era giù nel cortile venne una serva del sommo sacerdote e vedendo pietro che stava a scaldarsi lo fissò e gli disse anche tu eri con il nazareno con Gesù ma egli negò non so e non capisco quello che vuoi dire uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò e la serva vedendolo cominciò a dire ai presenti costui è di quelli ma egli negò di nuovo dopo un po' i presenti dissero di nuovo a pietro tu sei certo di quelli perché sei galileo ma egli cominciò a imprecare e a giurare non conosco quel uomo che voi dite per la seconda volta un gallo cantò allora pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto prima che il gallo canti due volte mi rinnegherai per tre volte e scoppiò in pianto al mattino i sommi sacerdoti con gli anziani gli scribi e tutto il sinedrio dopo aver tenuto consiglio misero in catena Gesù lo condussero e lo consegnarono a Pilato allora Pilato prese a interrogarlo sai tu il re dei giudei ed egli rispose tu lo dici i sommi sacerdoti frattanto gli muovevano molte accuse Pilato lo interrogò di nuovo non rispondi nulla vedi di quante cose ti accusano ma Gesù non rispose più nulla sicché Pilato ne restò meravigliato per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano commesso un omicidio la folla corsa cominciò a chiedere ciò che sempre egli chiedeva allora Pilato rispose loro volete che vi rilasci il re dei giudei sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba Pilato replicò che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei ed essi di nuovo gridarono crocifiggilo ma Pilato diceva loro che male ha fatto allora essi gridarono più forte crocifiggilo e Pilato volendo dar soddisfazione alla moltitudine rilasciò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso allora i soldati lo condussero dentro il cortile su e nel pretorio e convocarono tutta la corte lo rivestirono di porpora e dopo aver intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo cominciarono poi a salutarlo salve re dei giudei e gli percuotevano il capo con una canna gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano a lui dopo averlo schernito lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti poi lo condussero fuori per crocifiggerlo allora costrinsero un tale che passava un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna padre di Alessandro e Rufo a portare la croce condussero dunque Gesù al luogo del Golgota che significa luogo del cranio e gli offrirono vino mescolato con mirra ma egli non ne prese poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere erano le nove del mattino quando lo crocifissero e l'iscrizione con il motivo della condanna diceva il re dei giudei con lui crocefissero anche due ladroni uno alla sua destra e uno alla sinistra i passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano ehi tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso scendendo dalla croce ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scrivi facendosi beffe di lui dicevano ha salvato altri non può salvare se stesso e Cristo il re di Israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio alle tre Gesù gridò con voce forte Eloi Eloi Lema Sabachtani che significa Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato alcuni dei presenti udito ciò dicevano ecco chiama Elia uno corse a inzuppare di aceto una spugna e postala su una canna gli dava da bere dicendo aspettate vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce ma Gesù dando un forte grido spirò il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso allora il centurione che stava di fronte visto lo spirare in quel modo disse veramente quest'uomo era figlio di Dio c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano tra le quali Maria di Magdala Maria madre di Giacomo il minore di Ioses e Salome che lo seguivano e servivano e servivano quando era ancora in Galilea e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme sopraggiunta ormai la sera poiché era la parasceve cioè la vigilia del sabato Giuseppe d'Arimatea membro autorevole del Sinedrio che aspettava anche lui il regno di Dio andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù Pilato si meravigliò che fosse già morto e chiamato il centurione lo interrogò se fosse morto da tempo informato dal centurione concesse la salma a Giuseppe egli allora comprato un lenzuolo lo calò giù dalla croce e avvoltolo nel lenzuolo lo depose in un sepolcro scavato nella roccia poi fece arrotolare un masso contro l'entrata del sepolcro intanto Maria di Magdala e Maria madre di Giosess stavano ad osservare dove veniva deposto passato il sabato Maria di Magdala madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a imbalsamare Gesù di buon mattino il primo giorno dopo il sabato vennero al sepolcro a levar del sole e se dicevano tra loro chi ti rotolera via il masso dall'ingresso del sepolcro ma guardando videro che il masso era già stato rotolato via benché fosse molto grande entrando nel sepolcro videro un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca ed ebbero paura ma egli disse loro non abbiate paura voi cercate Gesù Nazareno il crocefisso è risorto non è qui ecco il luogo dove l'avevano deposto ora andate dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto ed esse uscite fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento e non dissero niente a nessuno perché avevano paura risuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato apparve prima Maria di Magdala dalla quale aveva cacciato sette demoni questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto ma essi udito che era vivo ed era stato visto da lei non vollero credere dopo ciò apparve a due di loro sotto altro aspetto mentre erano in cammino verso la campagna anche essi ritornarono ad annunziarlo agli altri ma neanche a loro vollero credere alla fine apparve agli undici mentre stavano a mensa e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che lo avevano risuscitato Gesù disse loro andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvo ma chi non crederà sarà condannato e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno i demoni parleranno lingue nuove prenderanno in mano i serpenti e se verranno qualche veleno non richierà loro danno imporranno le mani ai malati e questi guariranno il Signore Gesù dopo aver parlato con loro fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio allora essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano dappertutto e scritto